DataGest progetta e produce dal 1989 sistemi di selezione al 100% di particolari per viterie, bullonerie e tornerie. I sistemi DataGest vengono interamente progettati qui in Italia. L'esperienza maturata in più di 30 anni ci permette di offrire soluzioni tecniche complete, robuste e stabili sia per quanto riguarda soluzioni standard che nelle applicazioni personalizzate e di garantire ai clienti assistenza diretta e aggiornamenti software e hardware. Digisort è un sistema di selezione 100% a nastro di controllo dimensionale e di forma di oggetti quali viti, perni e spine. di lunghezza fino a 120 mm. Il sistema ha precisione subcentesimale e può raggiungere cadenze di 700 pezzi minuto. La scelta dei giusti componenti di visione è un aspetto fondamentale per garantire prestazioni così elevate. Essendo già clienti da molti anni e conoscendo la qualità dei prodotti Opti Engineering, ci siamo subito interessati alle telecamere Itala, che utilizziamo proprio all'interno di Digisort, abbinandole a ottiche e illuminatori telecentrici con tecnologia Core. I maggiori punti di forza che abbiamo riscontrato nelle telecamere Itala sono l'estrema facilità di utilizzo e la completezza della documentazione fornita. Quest'ultima, in particolare, ci ha guidati con precisione e chiarezza nelle fasi di installazione e configurazione. Come per tutti gli altri prodotti Opti Engineering, anche per le telecamere la disponibilità, professionalità e velocità con cui il supporto tecnico ci ha seguito sono stati determinanti nelle realizzazioni di Digisort. Opti Engineering è per noi un partner su cui possiamo contare, oltre a un qualificato produttore e fornitore di componenti per la visione artificiale. ITALA è il nome che identifica le serie di telecamere matriciali Power over Ethernet interamente progettate e realizzate in Italia da Opti Engineering. Le telecamere ITALA integrano sensori di alta qualità Sony Prejuice e Sony Prejuice S. Sono Genicam, Gigivision e conformi allo standard EM-VA 1288. Sono certificate per la resistenza a urti e vibrazioni. Hanno un mount in acciaio e un corpo in alluminio fresato per garantire robustezza e affidabilità. Un connettore 12 pin con molteplici input e output garantisce la massima connettività, utile in sistemi multicamera o con molteplici illuminatori. Integrano un FPGA ad alte performance ed un ampio image buffer. Presentano un ingresso per segnali encoder ed un'interfaccia seriale a doppio protocollo di comunicazione selezionabile dall'utente. Permettono l'invio e la ricezione di comandi Modbus su interfaccia seriale. Consentono di acquisire due immagini in rapida successione tramite la funzionalità Dual Exposure. Sono compatibili sia con sistemi operativi Windows che Linux. Nella serie Itala GL il controllo delle lenti liquide è integrato. Le telecamere Itala hanno 5 anni di garanzia e tutta la qualità che ti aspetti da un prodotto interamente progettato ed assemblato da Opto Engineering. Scopri di più sul nostro sito. Siamo sempre al tuo fianco per aiutarti a risolvere le applicazioni di visione più sfidanti. Ora anche con la nostra gamma di telecamere Itala. Opto Engineering, sempre vicino a te.